A pochi passi da Piazza del Plebiscito, e dal Teatro San Carlo, a Napoli, si trova una chiesa, nota come la Chiesa degli Artisti, caratterizzata da una monumentale facciata che è interamente inglobata nell'architettura della Galleria Umberto I. L'edificio sacro, originariamente dedicato a San Francesco Saverio, è oggi conosciuto come Chiesa di San Ferdinando. Si affaccia su Piazza Trieste e Trento, che i napoletani continuano a chiamare Piazza San Ferdinando, al cui centro è possibile ammirare la celebre Fontana del Carciofo. La prima pietra, di questa chiesa, fu posta, per volontà dell'Ordine dei Gesuiti, nel giorno della Candelora del 1636, mentre la sua apertura al culto, avvenne solo nel 1665. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, Gli Audio di Napoli Capitale, e potrete ascoltare e vedere i nostri documenti sulla storia, il folklore e le leggende di Napoli, anche in tv. Iscrivetevi al nostro canale YouTube.